Nel video di salire Ci siamo, ci siamo Saliamo, saliamo Questa volta in orario Sì Grazie Aspetta che poi dicono di qua, di qua E poi io mi perdo Ah no, guido io Voglio salire io sulla nave Alla estate Devo anche volare perché c'è casino Non si sente Uh bene Ormai stiamo parciati Siamo sulla nave tutto svolazzando prendendo un po' di sole e ce l'abbiamo fatta questa volta non l'abbiamo persa siamo arrivati per tempo ho pure chiedato io a salire sulla nave un'emozione incredibile ma ho detto se poi non riesco a entrare se poi non riesco a sistemare invece è tutto perfetto lo so, sono una guidatrice provetta lo so, lo so comunque sia, che dirvi niente, otteniamo la cortica spererei di vedere anche dall'altro italiano magari l'isola d'elva per poterla vivere meglio col binocolo ma insomma al momento non so neanche in quale tratta siamo cioè in quell'altezza siamo che dire, hanno anche riempito la piscina ma è una piscina che è profonda a 1,80 m questa è la larga a 20 cm cioè non si può chiamare piscina secondo me no se vai giù e tu torni su però vabbè è anche vero che questa non è una nave da crociera ma è solo una nave da attraversata quindi attraversata che in realtà uno pensa che ci si metta poco ad arrivare in corso con un foglio d'ore invece no stiamo su questa nave ben sette ore cioè non so ne ero per poter però fare di tutto dormire, mangiare, leggere, riposarsi prendere il sole e salutarvi anzi vi dico che intanto questa mattina ho pasteggiato a cappuccino i brioche come ben si confa un normale colazione e devo dire che le brioche hanno un'oltre molto buone se si vede va bene ci si vede grazie grazie